Siamo stati a Porta Portista, dove state attendo quelli che chiedono il nostro. Ora mi è rimasta in presa questa caccia. Ma guardate giù, ci taglie qualcosa proprio di qua. Passa la macchina, quanto abbiamo fatto? Ma come stai? Ma non stai male. Ma c'è stato male, quanto hanno fatto? Si è fatto male, sono cimbalizzissimi. Poi c'è il vento, io stavo con mia moglie, a Stampegni. Oh, l'auto! Si è messo la chiongelato, la buttata da Stampegni. Ma come era il lato? Ma come è il lato? Ma come è il lato? Ma come sembra che? E poi giravano? La pagina? Ma vai domani.